congedo il nulla le prime gocce di pioggia rade pesanti come chicchi di grandine caddero all'alba del giorno successivo e poi subito si infittirono scrosciando sulla terra inaridita dalla siccità costringendo a uno sgradevolissimo risveglio quanti sfiatati per il gran gridare e inebetiti dal vino s'erano infine sdraiati in mezzo a un campo o lungo il bordo d'una strada per dormire lì e se qualcuno tardò troppo a risvegliarsi corse il rischio di morire affogato per alcuni minuti la pioggia venne giù con una tale intensità e una tale violenza che non si vide più niente un muro d'acqua spense le ultime braci del rogo della strega ne disperse in un attimo le ceneri mescolandole alla terra del dosso o trascinandole via nei cento e cento rigagnoli che tumultuando e ribollendo come fiumi in piena si gettavano l'uno nell'altro e poi nel sesia dopo quel primo scroscio la pioggia diradò fino a cessare del tutto si videro i nuvoloni grigi che venendo da sud andavano ad ammassarsi contro le montagne lontane le nascondevano alla vista si vide il cielo che diventava tutto grigio mentre i fulmini schioccavano in ogni direzione e il tuono era un rotolio indistinto e continuo come se mille carri dalle ruote ferrate si stessero spostando al di sopra delle nuvole viaggiando tutti insieme da orizzonte a orizzonte allora venne la grandine quella vera e coprì la bassa d'uno strato di ghiaccio che sembrava neve alto in certi punti fino alle caviglie d'un uomo senza fare troppi danni però perché la precocità della stagione era stata tale che ormai quasi tutti i frutti della terra erano raccolti e riparati nelle case salzò il vento così forte da spezzare gli alberi e da far volare via le tegole dei tetti tornò la notte nell'ora stessa in cui il sole avrebbe dovuto affacciarsi all'orizzonte e a zardino e negli altri villaggi della bassa si dovettero riaccendere i lumi per fare il pane e per mungere le vacche ma tutto questo sconquasso va detto subito a scanso di equivoci pur capitando all'indomani della morte di antonia non fu cosa così eccezionale o così in attesa come potrebbe credere chi non conosce il clima della bassa e non è mai vissuto in questi luoghi non si trattò insomma d'una manifestazione di collera soprannaturale di dio o del diavolo nemmeno allora all'inizio del seicento a qualcuno venne in mente che potesse esserlo fu un fatto tutto sommato normale succedeva quasi ogni anno nella bassa e succede ancora che l'autunno si annunci in questo modo con un mezzo uragano tanto più violento e persistente nella scia di maltempo che si porta appresso quanto più lunga e torrida è stata l'estate in quel lontano 1610 la siccità era incominciata prima ancora della pasqua e l'estate aveva portato un'arsura e un caldo quali non si verificavano da anni sicché tutti in definitiva s'aspettavano che accadesse ciò che accadde quel giorno grandi no piove ci furono trombe di vento in vari luoghi piove ancora nel pomeriggio e poi all'ora del tramonto sembrò che le nuvole si aprissero e che il cielo ritornasse sereno ma era un'illusione nella notte ci fu un nuovo temporale e un altro ancora la mattina successiva e poi piove salvo brevi schiarite di un'ora o al massimo di un giorno fino quasi alla fine di settembre i rigagnoli e i fossi traboccarono il sesia straripò insinuandosi in un tratto dove l'argine era basso o ancora non era stato costruito arrivò nelle stradette di zardino e fin dentro i cortili e nelle case mentre gli abitanti si rifugiavano sui due dossi temendo il peggio infine ritornò il sole e le acque si abbassarono si ritirarono rientrarono nei loro percorsi abituali la bassa intera scintillò in un mare di fango cominciò l'autunno guardo il nulla dalla finestra là è zardino in un punto imprecisato ma centrale rispetto al resto che si vede o non si vede negli immediati paraggi o sul terreno stesso di quell'autostrada voltri gravellona che quando sarà collegata con i valichi alpini si chiamerà voltri sempione là ci fu il dosso e morì antonia che fine poi fecero gli altri personaggi di questa storia io non posso raccontarlo perché non lo so soltanto qualcosa di qualcuno per esempio del vescovo carlo bascapè dell'inquisitore manini bascapè morì cinque anni dopo antonia il 6 ottobre 1615 dopo aver patito inenarrabili tormenti di dolori fisici ma soprattutto morali ed è davvero un peccato che la sua vita e il suo romanzo sia poi stata ridotta dai biografi a storiella edificante per persone pie in quegli ultimi cinque anni infatti bascapè dovette subire umiliazioni cocentissime in particolare tra l'altro gli venne imposto da roma come vicario un nipote del cardinale bellarmino che senza darsi alcun pensiero delle reazioni del suo superiore considerato matto incominciò a fare e a disfare cose nella diocesi e a comportarsi come se il vescovo fosse stato lui contro il suo stesso vicario e contro roma e contro l'universo mondo bascapè combatte le sue ultime tragicomiche battaglie si dimise da vescovo paolo quinto accettò le dimissioni e soltanto in un secondo momento avendogli qualcuno fatto osservare che il matto era davvero lì lì per rendere l'anima e che sarebbe stata miglior cosa oltre che più caritatevole evitare lo scandalo di cacciarlo gli chiese di restare al suo posto manini invece visse ancora molti anni e fu inquisitore a novara fino al 1623 di lui si sa soltanto ciò che ho detto e poi anche che raggiunse il culmine della carriera subito dopo il processo e l'esecuzione di antonia nel 1611 lo troviamo a parigi al capitolo generale dei domenicani in cui è assai probabile che abbia fatto rifulgere le sue doti di eloquenza e di prudenza e chissà poi se qualcuno le apprezzò anche di mastro bernardo sasso boia di milano chi volesse cercare notizie negli archivi lombardi qualche cosa certamente troverebbe un boia è un personaggio storico di tutti gli altri personaggi che non appartengono alla storia e che quindi sono terra polvere fumo ombra nulla per dirla con le parole di uno dei massimi poeti di quell'epoca si può soltanto immaginare cosa fecero dopo il rogo di antonia il camminante continuò a camminare e a trafficare coi risaroli la puttana continuò a fare la puttana finché trovò clienti disposti a pagarla e poi comunque in qualche modo sopravvisse come ruffiana o come accattona e così pure sopravvissero ciascuno a modo suo il camparo mafiolo i due inservienti del tribunale dell'inquisizione il cappellano don teresio che certamente diventò parroco in città le comari di zardino i fratelli cristiani il pittore bertolino d'oltrepò il poeta caroelli i contadini il canonico cavagna e tutti gli altri monsignori novaresi biagio lo scemo continuarono tutti a vivere nella gran confusione e nel frastuono di quel loro presente che a noi oggi appare così silenzioso così morto e che rispetto al nostro presente fu soltanto un po meno attrezzato per produrre rumore e un po più esplicito in spietatezze infine uno dopo l'altro morirono il tempo si chiuse su di loro il nulla le riprese e questa sfrondata ad ogni romanzo ed in gran sintesi è la storia del mondo tutto finito tutto finito sì signore o forse no forse c'è ancora da rendere conto di un personaggio di questa storia in nome del quale molte cose si dissero e molte altre si compirono e che in quel nulla fuori della mia finestra è assente come assente ovunque o forse è lui stesso il nulla chi può dirlo è lui l'eco di tutto il nostro vano gridare il vago riflesso d'una nostra immagine che molti anche tra i viventi di quest'epoca sentono il bisogno di proiettare la dove tutto è buio per attenuare la paura che hanno del buio colui che conosce il prima e il dopo e le ragioni del tutto e però purtroppo non può dircele per quest'unico motivo così futile che non esiste come scrisse un altro poeta di questo secolo ventesimo questi che qui approdò fu perché non era esistente senza esistere ci bastò per non essere venuto venne e ci creò